Come memorizzare la data dell'inizio del Medioevo? Qual è il trucco per memorizzare la data dell'inizio del Medioevo? Il Medioevo inizia con la caduta dell'impero romano d'occidente 476 d.C. 476. C'è un legame che unisce questi tre numeri. Basta ricordare il 4. 4 per 2 abbiamo 8. Se a 8 sottraiamo 1, abbiamo il 7. Se al 7 sottraiamo 1, abbiamo il 6. 4, 7, 6. Ricordando il legame che unisce questi tre numeri e sarà molto più semplice ricordare la data dell'inizio del Medioevo. Ciao, al prossimo video, vi aspetto! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao!